Signor Sindaco, un momento storico, ma non cambia comunque la posizione del Comune d'Imperio, la sua in particolare nel dire che questa società va rivista, adesso firmiamo, ma poi ci vorrà anche un socio privato, ci vogliono delle garanzie. Ma questa è già una decisione presa da tutti, ragionata nel tempo. Direi che il fatto importante è che è una tappa che ci permette per fare il resto, e cioè una tappa che permette a lavorare sulla tariffa unica, sulla costruzione di questo atto, e permette quindi di fare subito i passi celeri per costruire una società snella che abbia la capacità di gestire. Voglio dire, l'attuale statuto, l'ha ripetuto prima anche bene il Presidente Mangiante, rendeva ingovernabile questa società, quello che è stato. Credo che questo atto sia preliminare alla creazione di una società efficiente che possa garantire gli investimenti e la sicurezza nella gestione del ciclo delle acque, perché parliamo dell'acqua ad uso domestico, dell'acqua a uso irriguo e del ciclo della depurazione dell'acqua. Quindi è complessa. Noi, nelle osservazioni che abbiamo messo dentro, concordandole con loro, in questo atto abbiamo inserito la salvaguardia degli asset conferiti, che sono proprietà storica dei cittadini imperiesi e del personale, ma tutto questo concordandolo insieme, quasi pleonastico. Ma lo abbiamo fatto perché le persone poi passano e invece gli atti rimangono. Questo è il motivo per cui abbiamo inserito in questo modo. Ci siamo avvalsi in questo periodo di studio di consulenze che ci hanno portato a costruire un risultato che ritengo molto positivo. Ma da adesso incomincia ciò che serve. Non vorrei che i cittadini potessero pensare che da domani mattina hanno l'acqua sicura nel rubinetto e che hanno le depurazioni sicure. Non è così. È il primo passo per arrivare a quell'obiettivo. Prima si era fermi. Il socio privato deve essere sicuramente in minoranza, una tesi che ho sempre sostenuto. Il problema è avere dei capitali e quindi credo che si debba contenere la tariffa del costo dell'acqua e fare tanti investimenti. Il capitale privato è fondamentale per poter riuscire a fare investimenti enormi che sono da fare in questo settore.